giorno per giorno collaboratori coscienziosi compiono il loro dovere al loro posto di lavoro giorno per giorno anche la bevanda ristoratrice acquista un'importanza crescente migliaia di distributori automatici distribuiscono bevande calde e fredde ah succeda quel che vuole loro bevono ovo ovo maltine la classica ovo maltine calda o fredda con latte malto uova lievito e vitamine una bevanda ristoratrice sana e naturale che si beve in fabbrica in ufficio o al ristorante per resistere meglio per restare in forma tutto il giorno sì non solo tutto il giorno ma anche la sera in famiglia